La copia delle chiavi del pub, rinvenuta nella tasca di Giuseppe Paonessa, è uno degli elementi che ha contribuito a dare una svolta al caso del rogo al Tonnina's Pub di Catanzaro divampato nella notte tra mercoledì e giovedì in cui hanno perso la vita due giovani originari di Borgia. Già nelle ore successive alla tragedia, il gestore della birreria, Gennaro Fiorentino, ha confessato di essere stato il mandante dell'incendio, appiccato per intascare il premio assicurativo. Sarebbe stato lui quella sera a raggiungere Borgia, caricando in macchina Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, per lasciarli poi a Catanzaro Lido. Le indagini intanto proseguono per accertare o escludere altre responsabilità, mentre la città fa i conti con una nuova e pesante tragedia. Gennaro Fiorentino è persona nota, napoletano di nascita ma catanzarese d'adozione, aveva rilevato l'attività commerciale assieme al cognato. Nell'ambiente la notizia è deflagrata con un effetto dirompente. Siamo tutti amareggiati per quello che è successo, perché rimani sconvolto dal gesto. Sono ancora vivi delle immagini degli attentati incendiari che la scorsa estate hanno funestato il litorale ionico. Ti senti in trincea ed è la realtà. Qui è come se devi fare tre volte tanto rispetto a fuori per raggiungere un obiettivo. Adesso due giovani morti carbonizzati allungano la lista degli episodi di cronaca, in una città che, seppur in un tessuto socio-economico dilaniato, tenta di rialzare la testa. Si è un po' preoccupati qui in città. È anche vero che lavoriamo da sempre in un contesto difficile. Ma il timore rimane. Vengono fatti sempre più arresti che sono stati negli ultimi periodi. Sicuramente aiutano a pulire un po' l'ambiente, però le difficoltà ci sono sempre perché investire con la paura che qualcuno ti possa intaccare tutti gli sforzi che tu vuoi fare ovviamente non è bello. Luana Costa per la Cineus 24 Luana Costa per la Cineus 24